e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità e curiosità per quello che riguarda il nostro fortnite e non solo fortnite perché da pochissime ore è disponibile il nuovo videogioco di epic games battle breakers lo potete scaricare su pc lo potete scaricare anche su android ovviamente in maniera totalmente gratuita quindi se volete provare qualcosa di nuovo marcato epic games provate battle breakers nel video di oggi comunque parleremo della novità apparsa nella nostra ex risky rails quindi rapide rischiose la location che in questo momento è vicino alla fattoria lo abbiamo visto tutti un'immagine animata è stata proiettata sullo schermo del cinema parleremo un attimino anche di questo cercheremo di capire che cosa cavolo significa e anche novità per quanto riguarda la neopiattaforma mixer che assolda nelle sue file un nuovo importantissimo membro dopo aver già arruolato nomi importanti e come chiusura una clip veramente molto divertente che è successa al nostro caro turner in arte tfew trollato malamente durante uno scream prima di tutto però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi e mi tengono un po di compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie anche a tutti quelli che mi supportano con il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima comunque è la domandina ve la devo fare ragazzi ve l'ho fatta anche ieri mi avete risposto in tantissimi grazie di cuore domanda di oggi veramente molto molto semplice ma se te potessi quale arma rivolresti in game ne sono passate veramente tante tantissime di armi in questi due anni abbondanti di fortnite io se dovessi scegliere rivolrei il quad launcher quel lanciamissili che sparava quattro razzi uno dopo l'altro mi piaceva veramente tantissimo e faceva il devasto dimmi invece te qua sotto nei commenti quale arma rivolresti in game ma quindi ciancio alle bande e vando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo argomento trattasi proprio di mixer abbiamo già visto ninja che aprì ovviamente le danze spostandosi da twitch a mixer fu seguito da altri streamer abbastanza famosi abbastanza parecchio famosi per i numeri che fanno loro all'estero stiamo aspettando anche altri grandi nomi ma la notizia arriva da poche ore e per chi non la conoscesse ewok del clan phase passa ufficialmente a mixer una ragazza l'unica ragazza del clan dei phase è diventata famosa durante un suo stream grazie all'host di un grandissimo streamer americano che diede proprio il là al successo di questa baby killer che giustamente riesce a farsi spazio tra i big e a conquistare numeri veramente pazzeschi quindi un augurio di buona fortuna anche a di walk che possa fare la sua carriera su mixer nel migliore dei modi e andiamo avanti con il prossimo argomento ovviamente non poteva che essere il nuovo schermo apparso a rapide rischiose o meglio l'immagine che è stata proiettata sullo schermo o un filmato un filmato un pochettino più in alta definizione in modo da farvi capire un attimino che cavolo dovrebbe esserci sullo schermo ed è in poche parole un'immagine che già abbiamo visto spesso e volentieri nelle precedenti season di fortnite il classico lama ballerino che di solito è appariva nelle televisioni qualche giorno prima degli eventi la vera domanda adesso è che cavolo vuol dire nel senso è da considerarsi l'inizio di una possibile un possibile evento molti dicono in realtà che potrebbe tranquillamente apparire nello schermo di rapide rischiose le pubblicità di battle breakers quindi in realtà ci sarebbe un sacco di fomentazione per nulla io sinceramente non ho ben idea di che cosa potrebbe apparire non credo se proprio devo essere sincero che possa essere qualcosa relativo a un evento qualcosa relativo alla storyline anche perché non avrebbe veramente senso lì a rapide rischiose perché staremo a vedere se per caso nei prossimi giorni cambierà qualcosa anche perché tutti stiamo aspettando e cercando di capire se anche in questo capitolo o meglio in questa season arriverà oppure no un evento e siamo già arrivati all'ultimo argomento di oggi come vedete alle mie spalle abbiamo due facce veramente meravigliose quella sopra di me è il signor 72 hrs mentre dall'altra parte c'è il signor Turner sempre sorridente e allegro perché voglio parlarvi di questi due ragazzi perché è successa una cosa veramente molto molto divertente durante uno scream in cui erano presenti sia tfew che 72 hrs faccio un preambolo come sapete ci sono un sacco di nuovi metodi nuovi meta game arrivati proprio all'end game tra l'altro proprio ieri abbiamo visto nel torneo della solo cash cup un buga scatenato che a un certo punto proprio nel nella fine della partita sfodera la fiocina e comincia a rubare loot prepotentemente dopo aver killato un nemico con un colpo secco di fiocina posticipato da tre colpi che gli hanno distrutto i muri che stava proteggendo voglio spostarmi sulla clip che è molto più divertente e come vedete questa è la visuale di 72 hrs guardate la clip veramente divertente lui sa che c'è tfew la in alto tfew è lì come vedete lui parte con la canna da pesca e gli fotte il loot violentemente c'è tfew che ha un attimo tiltato perché non ha ben capito che cosa è successo ve lo faccio rivedere senza commentarlo guardate che roba divertentissima questa cosa ragazzi veramente da considerare in maniera molto più seria la possibilità di utilizzare canne da pesca o meglio fiocine se volessimo avere una certezza perché si potrebbero dimostrare veramente veramente utili all'end game insomma ragazzi anche per oggi le news sono terminate stiamo aspettando di avere del materiale più corposo da parte di epigames io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao grazie a tutti grazie a tutti